Per il Foggia due settimane di pausa utili per ricaricarsi, riflettere sugli errori e ripresentarsi al match di domenica 25 novembre in casa dello Spezia tirato a lucido per tornare al successo che manca ormai da un mese. Per il Lecce sabato a Cosenza l'occasione di ripartire dopo la bruciante sconfitta di Pescara arrivata al termine di una gara rocambolesca. Stati d'animo opposti per le pugliesi di Serie B chiamate a vivere due momenti diversi ma accomunate dalla necessità di tornare a marciare al ritmo più spedito. Dopo il pari amaro con il Brescia lo Zaccheria il terzo nelle ultime tre gare il Foggia si ritrova in terz'ultima posizione con la prospettiva però di doversi fermare a guardare per il turno di riposo prescritto dal calendario della Bia 19 squadre e successivamente per la pausa delle nazionali che fermerà l'intero campionato. A questa mini sosta i satanelli arrivano con 7 punti, un bottino che poteva al netto del minuto di penalità essere molto più cospicuo se si pensa che i tre pareggi consecutivi sono arrivati tutti dopo essere passati in vantaggio, talvolta anche di due gol come è successo nel derby. Ingenuità del reparto difensivo ed errori individuali sono costate agli uomini di Grassadonia 6 punti che le avrebbero proiettati in zone di classifica ben più tranquille. Tra tre settimane il Foggia sarà chiamato a riprendere la marcia in maniera più spedita con Grassadonia intenzionato a sperimentare una variante tattica per il suo 3-5-2 che consenta l'inserimento di Pietro Iemmeno in un 3-4-2-1 con Galano e Dili o Mazzieo a sostegno della punta ex-assuolo. Al contrario del Foggia il Lecce non ha tempo per riflettere o fermarsi. Sabato pomeriggio a Cosenza i giallorossi saranno protagonisti del secondo match consecutivo in trasferta su un campo insidioso dove è già caduto il Foggia e contro una squadra in ripresa sconfitta a Palermo solo nel finale. Nel finale è caduta anche la squadra del Liberani a Pescara dopo una gara stoica nella quale l'amanti e compagni sono stati capaci di tirar fuori grande carattere rimontando l'inferiorità numerica e cedendo alla capolista solo nel finale ridotti ormai in 9. A Cosenza il Lecce avrà l'occasione di rilanciarsi e migliorare una classifica che già sorride ad una squadra partita con l'obiettivo salvezza.